Scuola Media Antonelli, in furia la polemica dopo la decisione assunta dal Comune di spostare gli studenti in altre tre sedi. Sette classi alla Foscolo, altre sette in via Rubicone e altre sette ancora a Colle Pineta. Trasferimento comunicato alle famiglie soltanto giovedì scorso. Tutto ciò per consentire di avviare i lavori di ristrutturazione appunto della Scuola Media Antonelli. Il consigliere comunale PD, Piero Giampietro. Forti disagi. Sì, siamo anche un po' stupefatti dalle stesse situazioni di Santilli che dice oggi che non vuole fare uno scuola bus perché le tre sedi individuate d'emergenza a seguito del passiccio del Comune che ha comunicato soltanto a fine agosto, anzi a settembre, a 400 genitori che dovevano spostare i propri figli in altre sedi, sarebbero troppo vicine alla sede della Scuola Antonelli. In realtà parliamo di chilometri perché in realtà non so dove abbia raccolato questi 200 metri perché in realtà sono tre sedi appunto distinte con l'epidenta via Rubicone e San Donato. È un disagio in più, si metteranno centinaia di macchine in più per portare bimbi a scuola. Quali soluzioni proponete per la Scuola Media Antonelli? Lo scuola bus che parta immediatamente dal primo giorno di scuola o comunque sia nei primi giorni di scuola dalla sede storica, cioè quella dietro al parco di cocco, e porti i bambini tutti insieme nelle varie sedi individuate. Solo così non saranno i genitori a pagare le inefficienze di questa amministrazione che ha messo le famiglie di fronte a fatto compiuto qualche giorno prima che iniziassero le lezioni. Noi ci troviamo di fronte alla Scuola Primaria San Giovanni Bosco che è chiusa da anni. Sì, questa è chiusa da tre anni, ha bisogno di essere demolita e ricostruita perché è una scuola importante storica in un quartiere che ha bisogno della scuola come il pane, purtroppo l'amministrazione continua a disinteressarsene e questa situazione fa il paio purtroppo con la scuola che è alle sue spalle, la scuola media Michetti di Veli Circuito dove nonostante le nostre denunce che facciamo mai periodicamente i lavori sono molto molto a relento e oggi per il terzo anno consecutivo questo quartiere è privo della scuola media, della scuola elementare e della scuola dell'infanzia. Oggi intanto primo giorno di scuola per l'Istituto di istruzione superiore Volta, per la di Marzio Michetti, il liceo Marconi e il comprensivo Pescara 1. Non solo, questa mattina cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico all'Istituto Alberghiero Ipsar De Cecco. La dirigente Alessandra Di Pietro. Primo giorno di scuola, anche lei dottoressa Di Pietro, emozionata immaginiamo. Emozionati tutti perché è un giorno importante, è stata una gioia particolare poter accogliere i nostri studenti in una situazione nuova, cioè di recupero di una quasi normalità. Ora possiamo rilanciare con forza e con pienezza tutte le nostre attività di aula, di laboratorio ed esperenziali. Quindi è una ripresa dell'azione educativa in maniera completa.